L'abbonamento è chiaramente un segno di fedeltà alla squadra, al club e un atto d'amore verso la Pistoiese. Quest'anno abbiamo voluto lanciare una campagna abbonamenti particolarmente agevolata per la Curva Nord. Abbiamo lasciato invariati gli abbonamenti in Tribuna d'Onore, in centrale e in laterale. Per questi ultimi tre settori abbiamo deciso di regalare la scratch card con cui poter vedere le partite della Pistoiese in trasferta. Mentre per gli abbonati in Nord abbiamo fatto un abbonamento molto particolare, abbastanza innovativo e un po' rivoluzionario. Quindi un abbonamento solo per il giorno d'andata, proprio perché negli ultimi due anni la squadra ha avuto dei risultati non brillantissimi. Quindi chiediamo di darci fiducia solo per il giorno d'andata, di metterci alla prova e poi se ci meriteremo il rinnovo dell'abbonamento sarà fatto per il giorno di ritorno. Il sostenitore è più che un abbonamento, come dice la parola, è un sostegno anche alla causa arancione e dà alcune agevolazioni come l'hospitality, il posto macchina e la tribuna d'onore, 1000 euro. La tribuna centrale è la tribuna sponsor, quindi dove ci sono anche tutti gli altri sponsor, partner della Pistoiese. Anche questo posto dà accesso all'area hospitality e ha il costo di 500 euro. La tribuna laterale è all'interno della tribuna coperta, negli spazi laterali e il prezzo è rimasto invariato rispetto all'ultimo anno, quindi 240 euro e in più regaliamo la scratch card. La tribuna nord abbiamo, come ho detto prima, lanciato un prezzo straordinario di 50 euro solo per il giorno d'andata, quindi sono nove partite al prezzo di 5,50 euro, quindi meno di un biglietto ridotto e quindi lo abbiamo fatto per cercare di avere una curva piena, per avere il sostegno del nostro pubblico. Quindi noi ci siamo messi in discussione, abbiamo fatto una scommessa con noi stessi e quindi chiediamo la fiducia del pubblico e chiediamo anche un po' magari di pazienza, perché poi il campionato quest'anno è un giorno a 20, un campionato lungo e quindi ci saranno momenti positivi, un momento meno positivi, però noi vogliamo far bene. Ci sarà la giornata arancione, l'abbiamo già fissata ed è il 22 di gennaio, quindi derby in casa contro il Prato e ci saranno anche agevolazioni, soprattutto per le donne, come era l'anno scorso e poi visto che, come dice lo slogan, il futuro è arancione e quest'anno abbiamo lanciato la squadra femminile e l'Academy, abbiamo deciso di alzare il biglietto ridotto fino agli under 18, quindi due anni in più rispetto all'anno scorso e soprattutto tutti i bambini fino a 10 anni, quindi tutti i bambini che frequentano fino agli elementari, potranno entrare gratuitamente allo stadio, quindi gli under 10 gratuiti allo stadio. Andando solo, il numero preciso non ce lo siamo prestabiliti, però l'importante è che lo stadio sia pieno, soprattutto la curva, poi se qualcuno non deciderà di darci fiducia all'inizio ma già dalla prima giornata deciderà di venire a sostenere la squadra, credo che anche quello sia un atto d'amore. Grazie a tutti!